Aura a tutti bella gente, sono Panda Pardo e oggi ho il compito di informarvi che il seguente video non è adatto ai minori di età, alle donne incinte, alle persone anziane, alle persone malate di cuore e anche a coloro che sono malati di provagine. Detto questo auguro ai restanti una buona visione. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!